un invito misterioso per soggiornare in un elegante hotel con luigi, mario e tutti i loro amici questa vacanza da sogno è troppo bella per essere vera? purtroppo sì qualcosa di strano sta succedendo in questo hotel e mario e i suoi amici sono stati rapiti luigi troverà il coraggio per tirare tutti fuori dai guai di nuovo luigi's mansion 3 esplora ogni piano di questo raccappricciante hotel attento, queste suite sono un po' particolari un piano sovrastato da piante gigantesche una piramide in un hotel oh, ehi, una discoteca di certo questo hotel è pieno di sorprese e di fantasmi tanti fantasmi è giunto il momento di sfruttare al meglio il Poltergast G00 questo speciale aspirapolvere è l'ideale per risucchiare il piantagrane stordiscili con un fascio di luce dello strobo bulbo poi risucchiali prima che scappino soffia aria dal Poltergast per risolvere enigmi complicati e usa l'arcobaluce per rivelare oggetti e porte nascoste aspetta però, c'è dell'altro! questo gadget acchiappa fantasmi possiede anche straordinarie abilità per prima cosa ce lo sbatacchia aspira i fantasmi e poi sbatacchiali per procurare ancora più danni cerca di sbatacchiare i fantasmi dentro altri fantasmi poi c'è il colpo ventosa punto un bersaglio spara il proiettile stura lavandini poi risucchia usalo per sbarazzarti dei mobili per sfondare porte o per strappare via gli scudi di fastidiosi esseri demoniaci usa la fantasia ultimo ma non ultimo il sobbalzo spara Luigi in aria con una potente esplosione del Poltergast è eccezionale nel controllo di orde e di fantasmi e per andare da A a B hai conosciuto il sosia gommoso di Luigi? Gommi Luigi? grazie alla sua... gommosità Gommi Luigi può infilarsi attraverso grate metalliche e scivolare con facilità tra stretti condotti se ti serve una mano Gommi Luigi ti coprirà ci sono molte insidie nascoste ed enigmi sconcertanti in questo hotel attento però a non far bagnare Gommi Luigi passa da Luigi a Gommi Luigi quando giochi da solo oppure passa un controller Joy-Con a un amico così lui vestirà i panni di Gommi Luigi a ogni piano ti aspettano fantasmi boss lotta a cavallo contro Re Spaventù è Capitan Spiritato preparati per una battaglia a ritmo di musica contro DJ Fantasma Gloria questi fantasmi non si arrenderanno senza combattere usa tutte le tue abilità da acchiappafantasmi e abbattili hai voglia di un po' di confusione multiplayer? intraprendi un viaggio terrificante nella torre del caos fino a otto giocatori possono giocare insieme utilizzando quattro console Nintendo Switch in questa torre del terrore i piani cambiano ogni volta che ti ci rechi dividetevi ed esplorate poi collaborate per fare piazza pulita di questi fantasmi dovrai affrontare varie missioni in ogni piano e provare a portarle a termine prima che finisca il tempo riuscirai ad arrivare in cima? puoi anche formare una squadra online formata da un massimo di otto cacciatori di fantasmi sei nella squadra di Luigi o nella squadra di Gommi Luigi? nella modalità Scream Park otto cacciatori di fantasmi possono combattere insieme con una sola console Nintendo Switch cattura fantasmi, spara palle di cannone oppure cerca di raccogliere tutte le monete il riluttante eroe Luigi e il suo verde e gommoso sosia Gommi Luigi hanno ciò che occorre per salvare Mario e i suoi amici? scoprilo in Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch bambino 6 wells